La criminalità è ancora forte perché lo Stato deve ritornare a fare lo Stato, lo Stato deve dare lui servizio alla gente. Ancora nel nostro sud, adesso vengo da Napoli, ci siamo risicolti nell'ultima operazione che i boss pagavano gli affitti, pagavano le bollette. Ma voi vi rendete conto? Come si fa a rompere questo rapporto quando queste persone che stanno in uno Stato di bisogno non trovano le braccia aperte dalla parte dello Stato? Allora siamo qui anche per creare rete. Per combattere la mafia e vivere nella legalità dunque occorre creare una rete, un coro tra Stato e mondo delle associazioni per annullare l'intrecci illeciti dove la criminalità continua a primeggiare. Ne è convinto Don Luigi Mero, la parroco napoletano, il parroco antica morra da sempre impegnato nella lotta sul territorio. Un impegno che ha voluto ricordare a Cassano delle Murge in un incontro in Piazza Moro organizzato dall'amministrazione comunale. A moderare il dibattito il nostro Gianvito Caffaro. Per Don Mero la fermare la legalità è un impegno che deve partire da tutti, in particolare dalle nuove generazioni. E si toglie un giorno dalla strada interessandolo, facendoli innamorare del bene. Io spesso dico ai ragazzi attenzione, la vita è una cosa seria e sagra, chi fa parte di qualsiasi criminalità organizzata o va in carcere o viene ammazzato. Non è che dici che belli facci i boss, tu sei scemo perché o va in carcere o viene ammazzato. Noi questo dobbiamo dire ai ragazzi attenzione. Siamo qui per darvi una mano. Io a Napoli abbiamo una fondazione a voci di creatura. Ci auguriamo che ben presto possiamo dare anche una mano al vostro territorio. Non mettendoci contro altre associazioni ma facendo rete, mettendo insieme più forze. Vogliamo essere una risorsa.